Grasso è bello soprattutto perché può aiutare a difenderci dalle infezioni. In un nuovo studio pubblicato su Science, i ricercatori dell'Università di San Diego parlano di una sorprendente scoperta. Le cellule di grasso che si trovano sotto la pelle sembra possano aiutare a proteggerci dai batteri. È stato scoperto un ruolo precedentemente sconosciuto delle cellule adipose del derma, conosciute come adipociti. Queste producono peptidi antimicrobici che consentono di rispingere batteri invasori e altri agenti patogeni. Lo studio rivela che le cellule del grasso hanno un ruolo scudo importante prima sconosciuto. Questo lavoro suggerisce possibili future applicazioni in clinica, assicurano gli autori. Ad esempio, gli attuali farmaci antidiabete potrebbero un giorno essere utili alle persone che hanno bisogno di rafforzare le proprie difese immunitarie.